Diviso tra gioia e dolori, Francesco Ghirelli, numero uno della Lega Pro, vive tre emozioni contrastanti in queste ore, combattuto per la felicità di riveder partire il campionato e il dispiacere di ricominciare ancora una volta dopo mesi senza pubblico. Ghirelli ha parlato sulle colonne della Gazzetta dello Sport, dichiarando senza mezzi termini. Al raduno degli arbitri a Sportiglia, ricordiamo che quest'anno ci sarà il quarto ufficiale anche in campionato, il presidente della Lega Pro ha lanciato un appello. Ripartiremo il 27, ha dichiarato, ma senza i tifosi allo stadio non possiamo farcela. Insomma, un monito importante che apre gli occhi anche sulla questione economica legata alla tenuta delle squadre di Lega Pro. Possibile che oggi intanto la Federcarcio ufficializzi Bisceglie e Foggia in Serie C al posto di Picerno e Bitonto a seguire mercoledì i calendari. Insomma, una ripartenza dal sapore amaro, il tutto sperando di poter blindare presto ad un altro traguardo, questa volta applaudito dal pubblico sugli spalti.